A compendio delle funzionalità integrate nei suoi server NAS, Synology ha appena lanciato C2 Backup, uno strumento nato per rispondere alla crescente richiesta da parte dei clienti europei in cerca di una soluzione per il backup sul cloud fortemente integrata e sicura. Un NAS è un dispositivo che nasce per conservare i dati in maniera sicura, grazie alla funzionalità RAID. Infatti, le copie degli stessi file vengono contemporaneamente ricreate su più dischi. Così se un hard disk dovesse danneggiarsi, le informazioni non andranno perse e basterà semplicemente sostituire il disco malfunzionante. Synology C2 Backup permette di fidare su un ulteriore livello di sicurezza creando automaticamente una copia dei dati anche sul cloud, appoggiandosi a server veloci dislocati sul territorio europeo. Pensato sia per gli utenti professionali che per i privati, Synology C2 Backup è un servizio di backup cloud che si integra perfettamente. Con l'interfaccia dei NAS Synology e le applicazioni in essi installate, vedere server NAS e cloud, un binomio vincente. E non è neppure indispensabile possedere un NAS Synology. I dati oggetto di backup risultano accessibili e gestibili da qualunque piattaforma e con qualsiasi tipo di dispositivo. Synology C2 Backup consente di pianificare le attività di backup e consta del supporto multiversione. In questo modo il servizio può mantenere molteplici versioni degli stessi file consentendo il recupero di versioni precedenti, anche in caso di incidenti. Lo strumento proposto da Synology, inoltre, permette di recuperare uno specifico file senza dover ripristinare l'intero contenuto di un'attività di backup, risparmiando così tempo prezioso. Durante il trasferimento dei dati da e verso i server cloud di Synology, questi possono essere protetti attivando la cifratura S256 e RS-2048. Senza la chiave privata i file non potranno essere decifrati da nessuno, neanche da Synology. I costi del servizio sono piuttosto contenuti se si considerano le funzionalità offerte. Il cosiddetto piano 1 permette di richiedere il backup giornaliero dei dati con conservazione regolare, di gestire fino a 11 versioni di backup nel corso degli ultimi 30 giorni, e di scegliere tra 100 GB, 300 GB e 1 TB in termini di spazio sui server cloud a partire da soli 9,99€ l'anno. Il piano 2, invece, prevede in aggiunta strumenti di backup ancora più flessibili, politiche di conservazione personalizzabili, la deduplicazione dei dati per l'ottimizzazione dell'uso dello storage e più di 1 TB di storage cloud. Agli utenti che si registreranno nel corso delle prossime settimane, Synology offre la possibilità di provare il servizio C2 Backup senza alcun obbligo di acquisto, per un periodo di 30 giorni dal momento dell'attivazione dell'account. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web di Synology C2 Backup.